Cara, ho un problema. Amore, e non dire ho. Ma abbiamo. E siamo una coppia. Un problema tuo è anche il mio. Va bene. Abbiamo messo incinta la segretaria. Ehi, Leo. Lo sai che ieri, finalmente, dopo cinque anni, Claudio mi ha parlato di matrimonio? A posto. Non ci posso credere. E fammi capirci cosa sta a dire con il chiave. Che è sposato. E c'ha tre figli. Con il carmonte. Pronto? Pronto. Sono il dottor Lacara. Il dottor? Il dentista. Ah, il dentista. Salve, dottore, mi dica. Guardi che i soldi che mi ha dato stamattina probabilmente sono falsi. Ah, sono falsi. E perché i denti che mi hai messo tu che sono veri? Ma quel cartoon va. E brava che hai la chiave qua davanti. Grazie. 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 Grazie.